Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha ricevuto questa mattina a Palazzo San Giacomo il nuovo prefetto di Napoli Carmela Pagano. Lungo e cordiale il colloquio tra il primo cittadino e il prefetto Pagano, alla quale De Magistris ha assicurato la costante e proficua collaborazione dell'amministrazione comunale. Al termine dell'incontro il sindaco ha donato al prefetto il crest della città rivolgendo le migliori auguri di buon lavoro. Ci siamo fatti già una bella chiacchierata approfondita, mi sembra il punto centrale più rilevante è il metodo, cioè collaborazione stretta tra la prefettura e il comune di Napoli, tra il prefetto e il sindaco, questo è un passaggio importante su cui improntare un metodo di lavoro e le priorità poi le conosciamo, sono il tema della sicurezza che è un tema molto caldo chiaramente nella nostra città e non solo, il tema dell'immigrazione come ha stato detto prima e comunque tutte le questioni aperte in città. Mi sembra che il prefetto di Napoli colga il punto dell'importanza del rapporto con le istituzioni locali e di prossimità, il concetto di sicurezza dal basso, partecipata, quindi non una sicurezza solo ripressiva e autoritaria ma bensì con il coinvolgimento non solo delle amministrazioni locali ma anche dei cittadini, delle associazioni, questo è un buon metodo per partire, poi noi abbiamo dimostrato in questi anni di essere un punto di riferimento in città e che la città sta dando segnali di grande ripresa, quindi credo che anche questo percorso col nuovo prefetto è cominciato nel miglior modo possibile.